Ciao a tutti, benvenuti in questo nuovo video e benvenuti nel mio canale Allora, mi vedete in uno sfondo diverso? Infatti, la maggior parte dei miei video li farò su questo sfondo Comunque, questo video è sempre sul tema scuola E si parla a scuola Se c'è la tua prof, vis, se ci fosse come prof, Vicky Niente, io vi auguro una buona visione E ditemi giù nei commenti se il video vi è piaciuto e ne volete altri simili Una buona giornata Altri 5 minuti Buongiorno prof Buongiorno ragazzi Buongiorno professoressa Allora, qui non si ci si alza Ehi, togli subito quel cellulare Sono arrivando in presidenza dal primo giorno Io questa volta lo scrivo Posso subito quel cellulare? Lo sto posando Mamma mia Mi scusi prof, lo sto posando Mi fa anche tenerezza Mi fa anche tenerezza? Grande, sei troppo grande Questo è grande Ehm, prof, cosa faremo quest'anno? Quest'anno faremo tutto il doppio dell'anno scorso Dovete ripassare tantissime cose Perché quest'anno Avete gli esami, avete capito? Faremo tutto il doppio dell'anno scorso Tutto, proprio tutto Ehm, prof, cosa faremo quest'anno? Diverso Stare in questo studio mi evoca tanti ricordi Quindi essere al centro con una poltrona Una cosa nuova E boh Speriamo che sarà andato bello Diverso, 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 diverso Finito la mia ora Me ne sto andando Ci vediamo domani Che devo fare l'interrogazione a tappeto A tutti A tappeto Preparatemi Perché domani Vi interrogo a tutti Proprio a tutti Arrivederci, prof Sì, professore Possiamo farci un test insieme Prima che vi era nata Non arriva nel ricordo Grazie Grazie, grazie Ci vediamo l'anno prossimo Io non ce la posso fare Già il primo giorno Questa ce l'ha con me Io non ce la posso fare Basta Non ce la posso fare Non ce la posso proprio fare più Ehi, ciao amica mia Volevo dirti che questa scuola è fantastica Cioè io, se fosse per la domenica Verri anche la domenica E' bellissima questa scuola Verri anche la notte Tutto il giorno E' proprio veramente bella E niente Il video finisce qui Spero vi sia piaciuto Se è così Lasciate un like Commentate giù nei commenti E ditemi se volete Dei video così Altri E niente Un bacione Cheia Cheia